Maria Raffa Revisore Avete presente una di quelle scene da commedia romantica in cui a un certo punto uno dei due dice all'altro «Dimostrami che mi ami o tra noi è finita». Di solito questi film si concludono con l'altro che porta un bel mazzo di fiori e vissero per sempre felici e contenti. Portare un mazzo di fiori è percepito come una dimostrazione d'amore perché è qualcosa che ha funzionato per centinaia di film e centinaia di coppie. Immaginiamo però una scena un po' diversa in cui lui si presenta col mazzo di fiori, lei lo guarda ed esclama «Ma io sono allergica al polline!». Ecco che quella che sembrava essere una buona dimostrazione non funziona più, o meglio, non funziona per questa persona specifica. Effettivamente, anche se questo è un caso molto semplicistico, se qualcosa vale per centinaia di tentativi nessuno ci garantisce che continuerà a valere per sempre. E una dimostrazione, per essere definita tale, è qualcosa che deve convincere tutti, cioè nel nostro caso dovrebbe essere valida per tutte le persone del mondo. Per fortuna il mio fidanzato mi conosce bene e mi ha portato una vera dimostrazione che sicuramente convince tutti. Quella del teorema di Pitagora. Potrà sembrare poco romantico, ma diciamocelo, i fiori dopo due giorni appassiscono. Pitagora ha dimostrato il suo teorema 2500 anni fa nell'antica Grecia, eppure tutt'oggi continuiamo ad usarlo. In qualunque parte del mondo, se prendiamo un triangolo con un angolo retto, non ci serve dimostrare che su questo triangolo il teorema funziona. Perché Pitagora ha già provato che funziona per tutti i triangoli rettangoli. Ma come ha fatto? Beh, se avesse provato per tentativi, un po' come facevamo noi con i fiori e le persone, avrebbe dovuto provarlo non per cento, non per mille, ma per tutti gli infiniti triangoli rettangoli. Capite bene che sarebbe un po' lunga e sarebbe ancora qui a tentare di dimostrarlo. È qui che entra in gioco un superpotere della matematica, l'astrazione. Facciamo un'astrazione quando non pensiamo più al particolare oggetto concreto, ma a tutti quegli oggetti che hanno la proprietà che ci interessa. Ad esempio, a me piacciono le camicie a quadri, ma non soltanto quelle che indosso o quelle che so di avere nel mio armadio. Mi piace proprio il fatto che le camicie abbiano i quadri, e non mi importa nulla di che colore siano. Posso quindi fare un'astrazione e dire che mi piacciono tutte le camicie a quadri, anche quelle che effettivamente non posso conoscere. Pitagora aveva gusti un po' più singolari dei miei. A lui piacevano i triangoli rettangoli, ma non soltanto questo o quelli che lui riusciva a disegnare. A lui piaceva proprio il fatto che i triangoli avessero un angolo retto, e non gli importava nulla delle dimensioni dei lati. Possiamo quindi fare un'astrazione e dimostrare il teorema di Pitagora per tutti i triangoli rettangoli, anche quelli che effettivamente non riusciamo a disegnare. Ma a questo punto una domanda sorge spontanea. Tramite questo superpotere della matematica, riusciamo a dare una vera dimostrazione per l'amore che vada bene per tutte le persone come Pitagora per tutti i triangoli rettangoli? Beh, mi spiace dirvi che dovrete continuare a cercare una prova diversa per ogni persona che amate. Perché nonostante abbiamo tanti aspetti in comune, non possiamo fare un'astrazione dell'essere umano. Percepiamo le emozioni in modo diverso, siamo tutti diversi. Ma non è forse proprio questo il nostro superpotere? Applausi Grazie. 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 Grazie.